stiamo facendo sky watching qui ad alta quota zona aimaville e abbiamo chiesto ai fratelli dello spazio di darci un segno alle ore 11 qui in direzione sud questa è la stella vega facciamo questa prova un palo con laser a stai filmando eccolo alle ore 11 i fratelli hanno risposto con questo oggetto che è apparso e scomparso poi è riapparso fatto un flash e proprio qui dove c'è la stella vega come avevamo chiesto ora non lo vedo più spero si sia visto e per quanto ci riguarda è una bellissima dimostrazione e chiaramente non era un satellite né un aereo grazie grazie aspetta filmando eccolo alle ore 11